La città è bella, accogliente, si è vista un'organizzazione impressionante, quindi complimenti a chi ha organizzato questi giochi e ovviamente a tutta parte. Il nostro girone è la favorita della Russia, è la squadra campione del mondo uscente. Siamo a giocare di uguale a uguale, non abbiamo nemmeno miedo e il nostro obiettivo sinceramente è ganare l'oro. Anche perché l'Italia è ben vista in tutto il mondo, quindi i tifosi ce l'abbiamo comunque, quindi speriamo anche qua di essere supportati dal tifo. Lo confio che ha del ambiente e speriamo noi animare un po' la gente per che vengano in massa. Il caldo così forte non me lo aspettavo. Questo rival è già più peligroso. Il caldo così forte non me lo aspettavo.